Di emergenza in emergenza, di sbarco in sbarco, purtroppo è così che bisogna ragionare per fronteggiare il sempre più crescente numero di migranti che approda sulle coste siciliani e calabresi senza sosta. Gli ultimi quattro sbarchi hanno infatti fatto sì che arrivassero sulle coste della Locride un totale di 1.500 persone. Sono numeri allarmanti che preoccupano il sindaco di Roccella Ionica, Vittorio Zito, il quale spiega che da giorni ormai le banchine e i deporti sono colmi di migranti e che si trova in una situazione non nuova ma di emergenza. Anche perché la particolarità che rende il tutto più difficile sono i numeri sempre più crescenti dovuti al cambio delle imbarcazioni utilizzate per affrontare il lungo viaggio. Parrebbe infatti che si arriva a bordo di pescherecci che sono molto più grandi e capienti rispetto alle imbarcazioni a velo utilizzate quasi sempre in precedenza. La preoccupazione di Zito alla luce di ciò è quella di non riuscire a rispondere ad un aumento costante di richieste di aiuto dichiarando infatti la macchina dei soccorsi e dell'accoglienza risposto bene ma è chiaro che alla luce di questi nuovi elementi occorre rafforzare anche con un maggiore coinvolgimento delle associazioni. La preoccupazione della situazione attuale d'essa tormento anche nei vertici istituzionali. Lo stesso Salvini infatti sostiene che l'Italia sta subendo un attacco dell'Europa la quale sta imponendo dei veri e propri sacrifici all'Italia che dovrebbe quantomeno darci una mano e porre un freno a questa situazione.